e vai ragazzi buongiorno buongiorno siamo si riparte oggi si va a fare un esperimento oggi vedrete dove andiamo e speriamo che tutto funzioni perché quello che faremo oggi è veramente veramente interessante vai venite con me avanti avanti oggi esperienza unica oggi esperienza unica con un amico straordinario veramente un grandissimo amico si va a posizionare a posizionare delle foto trappole per fare il time lapse dei funghi e crescono già già tu cominci a vedere qualche cosa Tommy no ancora no ecco il primo ragazzi o come si può come si può fare ragazzi io ve lo dico una cosa di genere uno che ha una passione guarda ce ne sono due ragazzi guardate voi guardate voi la bellezza di questi funghi uno viene nel giardino di casa questo è un giardino di casa guardatelo lì di sopra lì no no ma vedete dove siamo io sono un paradiso ragazzi io ora guardate ma guardate adesso però si va a posizionare si spera di posizionare la foto trappola per fare un time lapse Jesus k給 e manca위 magia 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 mentre mentre io ho piazzato la la foto trappola its time lapse Tommy ha trovato altri quattro funghi ma guardate che spettacolo Considerate che questo qui è comunque un test per capire se funziona o se non funziona, qui ci sono 3-4 funghi, sicuramente questi 3 potrebbero essere centrati dalla ripresa, vediamo dai ragazzi, come si dice, avanti, 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 mai nullare, matto, che macchina ragazzi. Certo, ragazzi, venite lì in bosco, mi sembra aver visto un funghi, venite in bosco a cercare funghi, con il quad, ora si prova, ora si prova, ora si prova, ora si prova, vai. E si ci vuole anche a te ora questo. Ragazzi, come si dice, avanti, 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 guarda il cavallo, siamo venuti su come, va a morire, va a morire, ciao Tommy, alla prossima, si vede quando hai il momento. Ciao, ciao, troppo forte. Allora ragazzi, ora si guarda la nostra telecamera e che l'ha fatto, uno, due, tre, questo era piccolino piccolino, guardate un altro lì che non si era visto, quattro, cinque, sei, guardate qua, guardate qua, alla grande, ti rende oltre. Grazie, due, quattro, sei funghi, guardate questo, guardate questo, guardate questo, ma non è il funghi, grazie. Guarda come è questo, guarda come è bello questo, Tommy, guarda come è questo. Ma che cazzo le ha levato qui? Sì, sì, le vai tutti. Va bello. Ma come è questo? C'è le lumachine che le si danno da fare, eh? Però, però... Io ne vedo un'altra. No. Dottor Lupesi. Ah, che è bello, eh. Che fenomeno. Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Allora ragazzi, si conclude. Questa brevissima, io non ho mai trovato tanti funghi così velocemente, mai, mai, mai. Mezz'ora, mezz'ora, a casa di questo signore, che lei è veramente incredibile, Tommy. E che si è trovato? Guardate, ci sono cinquanta funghi, più questi due, quattro, sei, che ancora non si sono colti, uno di sette, che sono quelli posizionati davanti alla nostra telecamera. Chissà che riprese l'avrà fatto. Sono proprio curioso. Tanto adesso vediamo questi. Li abbiamo lasciati, eh. Tommaso me li ha lasciati crescere. Però, guarda, questo l'è perfetto. Questo era piccolissimo. Quando siamo venuti era veramente piccolo. Guardate, ma... Questo è proprio bello. Questo è lentino. Guardate, guardate i funghi, questo. Proprio bello. Quattro, cinque, sei e sette, questi due sono proprio quelli dell'inquadratura che si vedrà. C'era la lumana. Vediamo se c'è sempre... Oh, è andata via! Oh, è andata via! Oh, è andata via! Oh, è andata via! Grazie.